Passando alla squadra che in questo momento sta spendendo di più ad oggi in God League questa ragazzi è una notizia diciamo che domani ci saranno i due annunci della Golden Stake perché il Penguin ha pubblicato appunto la storia che domani ci saranno questi due famosi annunci e vedremo chi sono anche se ragazzi anche voi penso che l'abbiate capito anche ieri masticava un po' il live su Twitch anche per dire da Mario Sturriola, dal Masseo quando parliamo anche di questa cosa diciamo che i nomi ormai sono usciti cioè ragazzi i nomi sappiamo che uno è un attaccante e l'altro è un esterno e l'altro è un esterno quindi dai fa fa